Nuova avventura giallorossa, Telerama in ritiro con il Lecce in Austria. In collaborazione con Startpoint, il punto di partenza per la tua nuova Toyota. Vieni a trovarci nei nostri showroom di Lecce, Brindisi, Taranto e Casarano. Vesti il tuo stile da Pozzo Lungo Uomo e Accessori. Taglie comode, forti e regolari. Pozzo Lungo Uomo e Accessori è a Leverano in via Cesarea. Sportivi giallorossi ben ritrovati, Telerama vi porta in ritiro con il Lecce. Entriamo subito nel vivo di questo argomento, nel ritiro austriaco del Lecce. Abbiamo incontrato il portiere Vladimiro Falcone che ha fatto un bilancio dei primi giorni di lavoro, ha parlato dei nuovi compagni e della sua volontà di far parte della storia del club giallorosso. Sentite. Sulla salvezza conquistata da Lecce nello scorso campionato c'è sicuramente la firma di tanti protagonisti giallorossi, ma ci sono anche le mani e i guantoni di Vladimiro Falcone, certamente uno dei protagonisti più positivi della scorsa annata calcistica. Lo abbiamo incontrato e con lui abbiamo parlato delle sue prime sensazioni, del ritiro in Austria, dei nuovi arrivati, ma anche dei suoi auspici e della sua forte volontà di entrare nella storia del Lecce. Sentiamolo. Vladimiro ha sensazioni dopo i primi pochi giorni di ritiro? No, buone sensazioni, comunque sia i nuovi giocatori sono integrati bene, noi vecchi, tra virgolette, comunque sia li stiamo facendo integrare bene nel gruppo, anche se devono imparare un po' di italiano, però ecco, comunque sia le sensazioni sono buone, nonostante i carichi di lavoro siano alti, quindi per esprimere sin da subito le qualità, ora si pensa più a faticare, a mettere benzina nelle gambe, però ecco le sensazioni, ripeto, sono molto buone. L'altro giorno i test amichevoli con le due squadre, che indicazioni pensi di aver tratto da questo primissimo confronto? No, è presto per dirlo, comunque sia erano test abbastanza facili, quindi non si è visto tantissimo, il vero test sicuramente sarà contro il Werder Brema, comunque sia una squadra di livello, lì tireremo qualche somma su come stiamo noi, su le indicazioni che ci darà il mister, e tutto quanto poi da lì si potrà vedere il tasso tecnico della squadra. Tra i nuovi arrivati c'è anche Freustel, che impressione ti ha fatto? No, una buona impressione, comunque sia un bravo portiere, giovane, so che comunque sia un talento doveva diventare diciamo uno dei talenti più cristallini nel panorama tedesco, quindi ripeto, è un buonissimo portiere, un bravissimo ragazzo, stiamo integrando anche lui nel gruppo, quindi ci darà una mano. Dove può arrivare secondo te questa squadra quest'anno? Sulla base della rosa attuale? Vogliamo bassi, quindi diciamo una terza salvezza sarebbe tantissima roba per il Lecce, quindi diciamo l'obiettivo è la salvezza, poi chissà. Non stimolo in più, comunque sia, e anche entrare a far parte della storia del Lecce per me sarebbe tanta roba e voglio esserci, voglio farne parte, quindi ripeto, l'obiettivo è la salvezza appunto per entrare nella storia di questo club. E ancora dall'Austria per il Lecce, seduta di potenziamento muscolare al mattino e nel pomeriggio di tattica e tecnica in vista del test con il Werder Bremer di domani, la squadra segue alla lettera quella che è la tabella di marcia di Mr. Gotti. Dopo i primi due test amichevoli disputati dal Lecce nel ritiro di Neuschwitz in Austria, è arrivato il momento di fare sul serio. Domani il confronto maggiormente attendibile, certamente per quanto riguarda lo spessore tecnico dell'avversario contro il Werder Bremer. Si giocherà a Zell al Zimmer, al Park Stadium, un confronto questo che fornisce certamente tanti stimoli, per Mr. Gotti invece occasione per trarre ulteriori indicazioni sullo stato di forma della sua squadra. Lavoro su forza muscolare in palestra con allunghi successivi in campo la mattina e seduta prettamente tecnico-tattica nel pomeriggio. Il tutto in previsione della partita. Di cartello, amichevole, con il Werder Bremer in programma domani alle ore 15 al Park Stadium di Zell am Ziller. Si tratta del secondo impegno amichevole del ritiro austriaco per i giallorossi. I primi due test sono serviti principalmente a ritrovare confidenza con il clima partita e a scaricare le gambe dall'importante carico di lavoro effettuato nei giorni scorsi. Questa volta il tenore della partita, però, benché amichevole, è decisamente diverso. Lo Sportverein Werder 1899, meglio noto come Werder Bremer, milita in Bundesliga la massima serie del campionato tedesco, risultando, peraltro, presente alla maggior parte delle edizioni. Una partita che permetterà a Gotti di testare con maggiore attendibilità lo stato di forma della sua squadra, sia da un punto di vista fisico che tattico. E se con Saval Maddalena e Kematen, le due squadre già affrontate, c'è stato spazio per tutti i giocatori presenti in ritiro, con il Werder Bremer è possibile ipotizzare che non tutti prenderanno parte alla spedizione di Zell am Ziller. Pochi istanti e poi tutte le altre notizie sportive della giornata, vi aspetto. Vieni a trovarci nei nostri showroom di Lecce, Brindisi, Taranto e Casarano. Vesti il tuo stile da Pozzo Lungo Uomo e Accessori. Taglie comode, forti e regolari. Pozzo Lungo Uomo e Accessori è a Leverano in via Cesarea.